Sai cos'è il brainstorming? Letteralmente significa tempesta di cervelli ed è utilizzato nel momento in cui bisogna tirare fuori idee e più persone si mettono insieme per sparare a raffica tutte le idee visionarie che possono avere per andare a portare qualcosa di buono a un progetto. Il brainstorming però va fatto bene e va fatto con delle regole fisse che portino vantaggio a tutti. Ad esempio non esiste una gerarchia, esiste un ordine in cui siamo tutti uguali. Un amico in questi giorni mi ha spiegato una cosa interessante. Mi ha spiegato che ad esempio le stellette che segnano i gradi nel mondo militare sono cucite sulla giacca, non sulla camicia. Come si vede nei film, i militari chiusi in una stanza per risolvere i problemi nazionali sono sempre con la camicia. Lasciano la giacca fuori dalla stanza in modo che all'interno siano tutti uguali, senza decorazioni che segnano la differenza di grado. Ecco questa è la prima regola per un brainstorming fatto bene.